Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura ancora la situazione vaccini. Il governo Draghi è già al lavoro sul nuovo piano vaccinale. L'obiettivo, stando a quanto annunciano il Premier e il Ministro Speranza, è quello di arrivare a 500.000 somministrazioni al giorno. E invece ancora caos rifiuti a Torre del Greco con la città che appare sporca un giorno sì e l'altro no. Abbiamo chiesto ai cittadini di Torre del Greco le loro opinioni al riguardo. E passiamo ora alla cronaca con la Guardia di Finanza che ha sequestrato nel porto di Napoli 500 tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi. In conclusione lo sport con la Turris che continua la scia negativa subendo una pesante sconfitta dal Palermo. Questo è altro nei nostri servizi. Le vaccinazioni nelle caserme e nei palazzetti. Un esercito di 300.000 volontari in campo per la logistica e per aumentare il personale dedicato alle somministrazioni. Mezzo milione di dosi al giorno come obiettivo a partire d'aprile. Prende forma il nuovo piano vaccini dopo le indicazioni che il Premier Mario Draghi ha dato in Senato, ribadendo che l'immunizzazione di massa degli italiani è la prima sfida per il governo del Paese. Il Presidente del Consiglio ha parlato della necessità di essere rapidi ed efficienti, del dovere di utilizzare tutto ciò che l'Italia ha a disposizione per proteggere i suoi cittadini e già nei prossimi giorni ci saranno una serie di incontri per definire le linee del piano organizzativo e logistico. Piano che però deve essere necessariamente vincolato alla fornitura dei vaccini. Senza dosi la campagna non può partire. La strategia si muoverà dunque su due piani, quello nazionale e quello europeo, dove l'Italia sarà convinta sostenitrice della linea adottata finora da Bruxelles per gli acquisti centralizzati. L'obiettivo del Ministero della Salute è di arrivare a 500.000 vaccinati al giorno, 6 milioni di italiani al mese, utilizzando soprattutto medici di base e pediatri. Ma per centrarlo servirà anche altro. Abbiamo bisogno, ha detto Draghi, di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate e ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti. Abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Verranno utilizzate quindi caserme, palazzetti, fiere, ma anche luoghi come la stazione Termini e gli spazi nei centri commerciali. Un cambio di passo che rimette in gioco la protezione civile. Un sistema che ha al suo interno tutte le strutture dello Stato, delle forze di polizia, alle forze armate, dai rappresentanti dei servizi essenziali, alle associazioni di volontariato e che garantisce quel coordinamento necessario a far sì che la gestione dell'emergenza si muova su un'unica linea operativa. Ancora rifiuti delle strade di Torre del Greco. A giorni quasi alterni i cumuli di immondizia tornano ad apparire anche nelle vie più centrali. Abbiamo chiesto ai torresi le loro opinioni sulla pulizia della città. Situazione rifiuti a Torre del Greco, lei come sta trovando la città in questi giorni? Lascia molto desiderare comunque. Io abito, non abito qui in zona, abito via Tortola, zona Ponte della Gatta più o meno. Nella nostra strada c'è una discarica comunque abusiva. In pratica è una stradina stretta, via Tortola. E hanno cominciato a buttare un sacchetto, da lì era iniziato divani, sedie, armadi. In pratica non si può neanche più passare con la macchina. Più buttano rifiuti, più c'è gente che va comunque a buttare rifiuti. Abbiamo chiamato anche in comune, abbiamo cercato di contattare, ma non viene nessuno a togliere via quella roba. Sempre lì. Altre zone della periferia in cui si concentrano questi tipi di problematiche? Sì, c'è via Lavatroia, che è la strada parallela. Comunque anche lì c'è una discarica. C'è una strada nuova in pratica che hanno fatto, che porta poi giù la litoranea. C'è il ponte dove ci buttano di tutto. Basterebbe un po' di buonsenso, anche se la gente non riesce ancora a capire che deve fare la differenziata. Perché noi la facciamo e vengono comunque puntualmente a ritirare. Però poi i rifiuti indifferenziati rimangono sempre lì e continuano a mucchiarsi. Vengono alcuni giorni che si vedono parecchi cumuli e alcuni giorni poi vedi tutto pulito. Non so da che dipende, com'è questa situazione. Ha qualcosa in particolare da denunciare che ha avuto modo di vedere in questi giorni? Sì, diciamo così, i rifiuti tipo mobili, frigoriferi, rimangono parecchie ore, parecchi giorni sulla strada. Non è che non vedo un servizio programmato, fare una domanda, togliere, non togliere. Ho visto alcune volte 7, 8, 10 giorni che rimangono là. Come sta trovando la città in questi giorni? Vabbè, diciamo che negli ultimi giorni è abbastanza disagiata come situazione. Quindi al di là del carnevale, che comunque ha lasciato i suoi residui e i suoi trascorsi, è una situazione abbastanza tragica, secondo me. Viene gestita malissimo. Non vedo neanche chi di competenza, quindi spazzini o altri che dovrebbero fare il loro lavoro. E diciamo che questa è una cosa abbastanza pesante, secondo me. È una situazione che va avanti ormai da decenni, però non se ne vede ancora la soluzione. In quale zone della città trova maggiori cumuli di spazzatura? Mi meraviglio che al centro sia una situazione abbastanza, non dico la più disagiata, però è abbastanza grave. Dove ho riscontrato i maggiori cumuli è soprattutto nella zona di via Circonvallazione, oppure quelle zone a ridosso della stessa strada, anche in zone in cui non dovrebbero essere depositati rifiuti. Quindi diciamo che è un po' un problema generalizzato. Crede che le responsabilità siano più dei cittadini o dell'amministrazione? Diciamo che l'amministrazione ha delle falle evidenti, quindi sicuramente hanno delle difficoltà nella gestione dell'appalto, però i cittadini da sempre non hanno quel senso civico che dovrebbero avere. Bisognerebbe forse fare uno sforzo maggiore anche nel controllare le modalità attraverso le quali viene svolto questo servizio e quindi bisognerebbe verificare la correttezza nell'esecuzione di quelle prestazioni che sono state indicate nel contratto appunto che lega l'operatore economico con l'amministrazione. Forse questo non c'è, nessuno va in giro a controllare, a fare le dovute contestazioni. Io da cittadina di questo meraviglioso paese sono tanto dispiaciuta perché è una bellezza geografica naturale che purtroppo agli occhi di tutti mostra questa pecca per quanto riguarda proprio l'ambiente e la pulizia della città. I cassonetti sono accantonati, sono ribaltati per il maltempo e purtroppo adesso vediamo anche le conseguenze del carnevale per le strade e spesso ci sono accumuli anche sotto le nostre stesse case di questi rifiuti che non vengono raccolti. Crede che le responsabilità siano più dei cittadini o dell'amministrazione? Credo che ci sia una responsabilità comune sia da parte dei cittadini che probabilmente non rispettano la differenziata ancora oggi e non rispettano magari neanche i turni di deposito e probabilmente anche da parte di chi dovrebbe gestire questa cosa nel miglior modo possibile. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro all'interno del porto 500 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione. I finanzieri del secondo gruppo, nel contesto di specifiche attività di analisi di rischio e di osservazione del territorio, hanno individuato nel sedime portuale parte europeo un'area di circa 500 metri quadri in cui erano ammassate tonnellate di rifiuti speciali, parte dei quali classificabili quali pericolosi. Il sito di stoccaggio illegale si trovava nel più ampio contesto della concessione demagnale di una società amministrata da un 68enne puteolano. Le fiamme gialle hanno rinvenuto tra l'altro 5 container contenenti rifiuti speciali e non, materiali ferrosi e in legno, lattine di vernice ancora piene, una betoniera, una gru mobile per sollevamento, due automezzi e numerosi motori per camion. All'interno di cassoni e autocari erano poi stivati pneumatici usati, materiali ferrosi, tegole e scarti di lavorazione di varia natura. Al termine l'interare è stata sottoposta a sequestro e il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria per attività di gestione, deposito e stoccaggio di rifiuti senza le previste autorizzazioni. Nuova sconfitta per la Turri, sbattuta nel pomeriggio di ieri dal Palermo con il risultato di 2-1. Losanieri che approfittano di un momento di totale appannamento in casa Corallina, che perdura ormai da settimane e a cui tarda ad arrivare la luce in fondo a tunnel. A decidere il match è una doppietta dell'attaccante Lorenzo Lucca, che al 29esimo porta in vantaggio i suoi, insaccando alle spalle del portiere a Bagnale. Svantaggio che sembra dare una minima scossa ai padroni di casa, che trovano con Romano la rete del momentaneo 1-1, a pochi attimi dal termine della prima frazione. Nei secondi 45 minuti il copione resta invariato, con il secondo gol di Lucca che non trova la risposta degli avversari. Il peso di un'altra sconfitta comincia inevitabilmente a pesare nelle gambe dei Corallini, non capaci di creare apprezzioni particolari a Pelagotti. Nel finale anche la frustrazione si fa sentire, così come testimone all'espulsione di Reinone. È forse nella testa il blackout in quel corso la Turris, che rincorre da fin troppo tempo una vittoria che darebbe morale e punti chiave per il discorso salvezza. Invece è arrivata un'altra sconfitta, nuovo passo falso che rischia di mettere concretamente la squadra di Torre del Greco nel calderone della zona play-out. Di fondamentale importanza è il prossimo match, diventato a questo punto sconto diretto per la salvezza. I Corallini saranno ospiti domenica pomeriggio alle 17.30 in casa della Paganese. Incontro che si preannuncia cruciale e l'attuale stato di forma rischia di giocare un brutto scherzo ai ragazzi di Fabiano. Urge dunque un cambio di passo, sia dal punto di vista della mentalità che del gioco, per evitare che quanto di buono fatto nel giro di andata sia vanificato da questa difficile parentesi, nella speranza che si possa uscire dalla crisi quanto prima. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazione potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. La crisi attenzione. La paese attenzione. La chicago attenzione. La passata. Questa attenzione. Capate. La covid. Questa attenzione. Questa. fate atzone. Las sensoryament. Cosa Beweg è corresponds Primaاظ promise. Questa attenzione. Questa attenzione. Grazie a tutti.